Oggi si possono presentare in regione le domande per la rimozione di piccole coperture manufatti per i privati. È un primo passo naturalmente, sono stati stanziati 200.000 euro, ma sappiamo benissimo che 200.000 euro per un territorio come le Marche è una cifra irrisoria. Ma confidiamo che questo è un inizio e che in futuro questi tipi di contributi vengono confermati, soprattutto incrementati ogni anno, sia da parte della regione che da parte del comune naturalmente, perché bisogna unire le forze delle istituzioni e naturalmente anche di noi cittadini. Le domande potranno essere scaricate dal sito della regione, presentate da oggi 4 maggio fino al 30 settembre. Naturalmente troverete anche tutti i criteri per l'ammissibilità alla domanda. È molto importante che vengano utilizzate le aziende che faranno questi interventi iscritte all'albo nazionale dei gestori ambientali. Questo è fondamentale. In più, sempre in questo bando, rientrano gli interventi fatti dal 30 di aprile 2020 fino al giorno prima della presentazione della domanda. Grazie alle segnalazioni dei cittadini scopriamo ogni volta delle situazioni critiche di verifica dai cittadini e inviamo segnalazioni agli organi competenti. Questo è fondamentale. Quindi è per questo che dicevo prima che abbiamo bisogno dell'aiuto anche del comune, della regione e naturalmente anche di Roma, ma arriveremo anche a Roma perché il comitato è praticamente alla sede principale proprio a Latina e il nostro presidente a livello nazionale, Avvocato Bonanni, è proprio in contatto anche con gli organi del governo perché qui purtroppo ogni istituzione deve fare la sua parte. Anche noi cittadini naturalmente dobbiamo fare la nostra, che è quella intanto di segnalare. Ma la segnalazione non vuole essere una punizione, la segnalazione vuole essere un qualcosa per prendere atto del problema e tenere alta l'attenzione su quello che è l'amianto, che è un problema veramente grande. Un momento, questo dell'inizio degli incentivi, che arriva a pochi giorni da una giornata simbolo per voi, quella della giornata delle vittime di l'amianto commemorata sia a livello regionale che comunale. Sì, il 28 di aprile è la giornata mondiale delle vittime di l'amianto e quest'anno per la primissima volta sia qui a Pesaro che con la regione Marche abbiamo avuto questo momento di commemorazione. Innanzitutto a Pesaro abbiamo avuto questo momento al Parco Trulla. Abbiamo scelto il Parco Trulla perché porteremo avanti, continueremo un progetto che è iniziato proprio in quel parco, il 28 aprile 1990, dove studenti e insegnanti hanno lanciato un appello, salvare l'ambiente e si sono resi custodi di quel piccolo ecosistema, come noi ci rendiamo custodi della vita. Cioè dobbiamo far ripartire alle persone, cioè dobbiamo trasmettere alle persone, ma soprattutto alle nuove generazioni, che bisogna prendersi cura dell'ambiente perché altrimenti non ci sarà né salute né vita. Che sia di buon auspicio, che sia un inizio di un lungo progetto costruttivo, sia con Comune che con la Regione.